Bella a tutti ragazzi Benvenuti in questa nuova serie Siamo su Saints Row, il terzo E faccio il terzo perchè se devo essere sincero Il quattro Da quel poco che l'ho giocato Non è che mi sia piaciuto un gran che E quindi faccio il terzo, quindi ciao Nuova partita Sì, va bene Normale Sopra il microfono pieno di peli Non so perchè O il mio gatto ci sputa sopra Ok, inizia L'ho già giocato ma non ho mai visto le cutscene Quindi Conquista È arrivato il compagno di mia madre Che due coglioni, caristo La storia dell'umanità Michio puoi scendere dal computer Fin dai tempi più remoti i grandi leader Nacquero da umili origini Per diventare Un cazzo Ah, boom Perfetto E così fu per i First Street Saints Dalla conquista di Stillwater La piccola gang è diventato un caso mediatico Un film sui Saints in produzione Johnny Gatt e Sean Day sono icone della cultura pop E Pierce Beh, che cazzo sono a frega Pierce Pierce è n***a Il punto è che i Saints sono sulla cresta dell'onda Ogni organizzazione criminale vuole la loro testa Era solo una questione di tempo prima che qualcuno dichiara se guerra i Saints Ok Fine 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 Cioè fine Iniziamo più che altro Raga, io stavo facendo la serie su un F4 Speed Pro Street L'ho dovuta eliminare Ce ne andiamo conto Perché mi si è buggato tutto Adesso non mi parte neanche più L'ho disinstallato Per reinstallarlo Non me lo reinstalla neanche Fanculo Ma che cazzo Ah sì Vabbè sì Questa scena me l'aveva fatto vedere gli Hang ai tempi Quando era per uscito Che stronzato Ah madonna Cazzo Tutti sti messaggi tutti insieme Proibito in California Quello lì era Pierce comunque Quello lì in liga Ehi, tu sei solo un ritorno Quindi non fai un style Hong Kong Io sono un attore metodo Ma che cazzo Ok Ah, lui pensa che dobbiamo girare un film Invece Che stronzato Boom Headshot Bitch Si sente un po' basso il volume Ah, veramente si sente basso Io lo sto sentendo basso Poi non so Ok Pronti Dai però Oh, quanti caricamenti Su Dai Ok Ok Si ergava ampoli Innoscati Eh Troppo Non c'è vento Ma cazzo Questo che cazzo Muore Jason più Uccidi le guardie Dovi Dovi Ma che cazzo Io ero pronto ad andare Cioè Ok Andiamo È strabello Senza Il terzo Comunque c'ho anche il quattro Quindi magari Se tirivi dal cazzo Magari mi fai Dove che sono gli altri Qui Ma solo starma qua Ah no Cazzo C'ho anche questa Buona Scusi Lei Non è che per caso Ah No Niente Volevo chiedere un'informazione Allora un attimo Aspettate Che armi ho Uh Fatemi provare No la pistola Fatemi provare Questo No non mi piace Mi sa che è meglio questo Livello 4 Direi che è molto meglio Questo Oh Mi ero dati un po' Anche io Così Che sta facendo Sto scemo Che lunga Ma quasi che idea del cazzo Geniale Cosa Quando devo salire ancora Ma chi che sta sparando Ma chi che sta sparando Lì sotto Lì sotto Stai a stare scherzando Anche i missili Minaggio Muori o fai finta Oh questo è un nemico Ah non è morto Ok Ricarica Ti puoi levare Scusa Ti levi dal cazzo Grazie Innesca Innesca di esplosivi Ma che Ok Sei un coglione Allora Andiamo avanti Piazza di esplosivi Voilà Quanto devi essere Stupido Da una dieci Ecco E scappa Cioè Io Io sono Difendi te stesso Io sono allibito Che cazzo Che cazzo Che cazzo è successo Muori o fai finta Fai finta Oh È morto Cazzo È morto In ginocchiato Ah Ancora vivo Oh no no Sì ma questi li devo Cribellare Aspettate che faccio Una roba Bombe Micio minchia Adesso devi andare a cagare Che dove Avesse ricaricato Avesse ricaricato Ah ma c'è Ancora Fine Fine Ah no Che idiota Ti sei accorto che ne abbiamo un po' di qua Ne abbiamo un po' ovunque Un attimo Madonna ma che casino Non solo nel gioco Anzi nel gioco non c'è neanche casino Devo aumentare voluto Colpisci l'elicottero E devo ricaricare Micio sennò stai fermo Guarda Oh Oh un'altra caccina Comunque questa prima puntata Faccio vedere solo l'intro E poi basta Il pezzo Quello là Dove Dove Come si dice Dove si Ah ma sono loro Scusate Dicevo Il pezzo dove si Configura Il Personaggio Lo faccio io Da Zulu Mi lascio un po' di sorpresa Ah buona Munizioni infinite Ma che cazzo Ma no Aspetta che stiamo Dai non ricaricare C'è più nessuno Buona Ah no Scherzo Ma gli elicotteri esplodono Come se Come se fossero Di carta Cioè esplodono subito Nel senso Oh merda Oh cio 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 Oh ma sei fuori No aspetta Sali Oh Oh non posso muormi No dai Seriamente Eh se per meglio Una intro così Che quelle Call of Duty Da alcuni Call of Duty Sì vabbè Questo ci ha fatto In frontale Contro Ma Che poi Oltretutto Non ti sei ancora Mosso da qua Cioè Ti rendi con Crepi o fai film Non so che lo continuo A ripetere Ma cazzo Non creparo Cosa Ah no Perché sto crepando Tutti in merda Minchia Qui ho fatto Uccisione Multiply X10 Ancora Sto cazzo Di Contro Di merda Non gli tiro via Un cazzo Di danno No no Non ci credo Boh La cazzaforte È andata in merda Vabbè A noi non ci siamo Salvati Ok Salta su No vabbè Non ci crederò mai Non ci credo Che sfiga Ok Continuo Quella Quanto rispetto Ok Questa era la intro Adesso in teoria Dovrebbe Chiedermi La customization Del personaggio Caricamento Si lo so che stai caricando Sono un cretino Ok ragazzi Quindi Ci vediamo Alla prossima puntata Con Il personaggio Già fatto Deciderò Se farlo maschio E femmina Poi vedrò Vabbè E niente ragazzi Alla prossima puntata Bella a tutti E niente ragazzi E niente ragazzi